ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e in questo video vi mostro una moto una moto molto bella a me piace tantissimo e anche questa come ho già detto nel video in precedenza della panto anche questa andrà a far parte dei miei veicoli personali moddati del mio garage moddato e questa qui ragazzi è la sovereign la sovereign è una moto che ci fu nel dlc dell'independence è molto particolare qualcuno l'ha già vista nel mio garage però prima era di un altro colore adesso gli ho cambiato colore questa moto è una moto moddata ragazzi una moto fatta da un modder quindi non cercate assolutamente di farla perché comunque non esiste nessuna maniera di fare questa moto a meno che non ve la passi un amico non ve la faccia un modder non c'è nessuna forma di riuscire ad avere questa moto quindi niente anche questa volevo farvela vedere ma anche se magari qualcuno potrà dire a me mi prega in casa queste cose io voglio questo voglio quello vabbè tu vuoi quello vuoi quell'altro io voglio mettere questo sul canale perché il canale mio e ci metto quello che cazzo mi pare no vabbè dai non è proprio così però insomma magari a qualcuno non gli piace non lo so però vabbè a me piace tantissimo molto bella molto particolare con questo colore con questa perlescenza verde lime poi notate anche il parabrizza che è nero limousine molto bella molto bella da vedere e quindi come ho già detto questo sarà un altro pezzo raro che si andrà ad aggiungere alla mia collezione e per quest'oggi sono due pezzi rari vi premetto che ce ne saranno tre quindi ce ne sarà ancora un altro ragazzi rimanete connessi sul canale così vedrete quest'altro secondo me il pezzo forte quindi vi lascio all'immaginazione insomma e niente ragazzi per questa moto e per questo video è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao